ok ma andiamo a prendere le torte dov'è la torta? ah credo sia questa gran torta di letame poi non son sicuro è questa quella di letame, ci faccio un tuffo eeeh viva la merda ah io ho sbagliato dove son finito? bambini ora che vi siete divertiti possiamo anche andare a fare in culo no? ma non ho ancora finito il mio panino ahia che cosa? ahia la finisci la finisci ma dai per me grazie mi fa passare gentile senti ha suonato come lì era il clacson della gentilezza ma dai ma chi è? cosa fa? oioh oioh sei scemo aia corca troia ma senti che io sono dietro arriva dopo ah ecco ma sei scemo ooooh ma te guarda sti teste di cazzo ma non era quello ma abbiamo la stella era innocente quello che troia ah deve iniziare a correre abbiamo la stella quindi possiamo arrivare prima ma non scendere e correre noh che troia eh volevo fare simpatico amici eh no arrivano mi hanno visto ma è aumentata la polizia sono state due ecco già mi arrivano eh quanto è tono? eh eh c'è bisogno signori mi fermo più in là però hai rubato questo pure ma è il mio ti giuro gira gira eh sto girando è la madò cosa fai è la peppa è la peppa ma si può è una gita noiosa però non mi sta piacendo si no non sta succedendo un po' niente amici siamo arrivati siete contenti cazzo cazzo siete contenti devo parcheggiare sono caduto mi sono buttata parcheggio perfetto polizia io sono solamente un uomo che per sbaglio ha ucciso altri uomini non dite le cazzate intanto ho dato la mazzetta alla pula ah meno male e la pula busso alle porte del buio qui si mette mario le fammi entrare io le rispose di mario perché son vagabondo ma siete una cosa ok se per favore volete che vi faccia la guida turistica se potete venire tutti qui davanti l'entrata guarda come cazzo cammina da gays questo questo poliziotto cosa ha fatto oh yeah ha fatto cadere il lizzaro ma dove va tra l'altro dove sta andando ma il lizzaro è crashato mi sa no sono qua ma io t'ho visto ti giuro c'ho la registrazione si sono quello che ha fatto aia tu hai fatto uno schiaffone incredibile cosa è successo sei infelzato nel pavimento il poliziotto non si entra oggi è chiuso mi dispiace ah torniamo dentro ah dai che è che sei strusciato ai notti sei strusciato tutto il culo dell'aloe ma guarda che lascia fuori aia ma la son pulito tutta è tutto fresco con l'aloe qui amici potete usufruire di questi cannocchiocoli aia di questi cannocchiali per vedere in lontanità eh mi dispiace Luke ma le brioche te le fai a casa tua perchè come ho detto prima qui è chiuso oggi perchè oggi è giorno di festa ah si che festa è? festa di sto granchè ah se vuoi buttarti Mark ti prendo io dove sei? sono qui sotto vedi? sono agile come un agilista ok possiamo eh se volete possiamo tornarcene da dove siamo venuti in Africa quindi dai andiamo ah vedi ahia porca troia come mi ha atterrato male ah eh che mi ha preso eh non vedo eh orca troia tre stelle orca eh ma è lui che è venuto sotto da me però quindi abbiamo 30 scudetti adesso eh si yeah se per favore volete risalire eccomi qua finalmente ti ho visto rotolare tutto oh vedi ahia mi tamponano allora io sono fermo se mi danno una stella guarda sono fermissimo quante macchine ma non applaudire cretino sali eh un rumore strano eh non lo so forse la marmita che è caduta per terra non può essere forse l'abbiamo persa eh troviamola dai vedo se l'ho messa in tasca che ma la marmita quella per cuocere la pasta no la marmita ma che cosa usi per qualsiasi pasta tu scusa eh fai fai quei 5-6 chili di pasta nella marmita no no anche miliardi di chili è probabile ooooh la ma ma chi è stato? chi è stato? chi è stato? e volevo farla della pace eh oh guardate che bello ok così siamo più vicini guardate che bello il lacco no adesso adesso possiamo tornarcene finalmente a casa basta che non vai dritto giù ti prego eh non ti posso assicurare niente però torniamo a casa comunque eh eh in qualche modo meno male che torniamo a casa guarda che tornavamo eh eh guarda qui che bel panorama te lo faccio vedere da più vicino nooo nooo auto vedi area aspetta che qui stiamo camminando colpo di reni aspetta seriously o 2 ok così vabbè col vado che miseria non riesco a uscire ce l'ho fatta dentro il volo no aspetta e un'altra ce l'ho fatta ce l'ho fatta Mark ce l'ho fatta aspetta saliamo la mia vita adesso ma mi rubate anche in posto dai che c'ho ancora il piede di piedo dai salite che ce l'abbiamo fatta porca la mignoto guarda il muso come madonna una sudata mamma mia nella vita vera tra l'altro devo fare l'inversione no 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 chi c'è dietro che non riesco a fare l'inversione autista cortesemente ho del ferro e non ho paura di usarlo eh io del potassio e ne vado fia lo sapevo che facevi questa battuta cretino ti conosco troppo cretino io vado come cazzo mi pare oooh io ascolterai il consiglio di quest'uomo che i capelli unti davanti a me ok allora vado piano signor olio d'oliva c'è qualcosa che non va nel mio pullman sento ancora il rumorino non credo sia più un pullman ormai no mezzo di trasporto quella dei pagliacci c'è un semaforo qui è la madò e cosa è successo il pullman non è più il pullman e non ti fa più vedere i colori eh non è credo di aver perso la retina su in cima eh amici sono siamo arrivati ma ci sono i schizzetti aperti eh scusa il mio pene ciccio hai perso comunque guardate quanto è bello pulito e sano il pullman hai visto adesso con tutti gli schizzetti lo fa come nuovo allora io adesso eh facciamo andiamo a fare una bevutina dai allora questo è il mio levatevi dalle palle eh senti un po' cuntachinte spostati da qui che non riesco a muovermi uè cicci cicci vi levate scusa amore io avrei bisogno di un goccetto di vino sai come la vita è una merda eh aspetta se riesco a staccarmi eccoci qua oh fammi bere almeno 7 mi indichi il bagno però sta finendo eh aspetta prima porto questo qua in bagno no 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 ah dove dove ok destra destra ah e destra è qui no no ciao bagno mi tiro giù un attimo la zip ah no ah scusa Eliezer andiamo eh gli avanti dritti aspetta moro che ti vengo da una mano tagli cacchio sono credo di essere allora io mi chiamo Olivia Antonietti dove sei Olivia ora questo stivale che perversioni hai Eliezer perché hai dei vestiti da don eh è arrivato con l'arto moro eh allora volevo dirti che ti ringrazio per essere mio amico eh che sei una bella persona anche se sei di colore eh eh inoltre spostati che devo vomitare dai no mi vomita tossi oh mi faccio la doccia magari aiuta oh mi è rimasta la selivetta quella la cosa ti è rimasta quanto in doccia? omosessuali ma mi faccio la doccia con gli occhiali da sole io eh YY cochirisi ma fanno dose loro tu ma dai guarda guarda che ti ho visto eh buon tator zero ma mi sa che l'ha messa a ciccio moro stavo cercando gli occhiali li hai visti beh se li ho addosso aspetta aspetta che il gradino fa male alla vista ah io ho sbattuto la faccia dei libri Forse è il momento che mi mancano stampati in faccia Che cazzo vuoi? Ciccio ciao, sei quello di Youtube Si però te ne vai che puzzi Ciccio, io ti conosco, sei FabiJ Ciao Ciccio Gamer, sei quello che fa i video Ah, vedi che c'è anche Mortizia Ah, ma tu sei quello lì che fa i video dei gossip Quello che dice le puttanate in giro Alfonso Signorini? Esatto, vado via Ah, ho girato troppo la svelta Salutiamo i nostri amici da casa Ma è morto qualcuno Eh, mi dispiace, salutiamo tutti Salutiamoli tutti, dai Si, così No, io così Non più particolare Ciao 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 Ciao